Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video, lì che c'è di noi via Andremo a portare anche molti, molti video di Battle Royale, dobbiamo anche, diciamo, costruire una bella community di Battle Royale Come ce l'avevamo molto tempo fa con i server privati, se vi ricordate, abbiamo fatto una settimana, da quando eravamo 3000 iscritti Abbiamo fatto 7000 iscritti in una settimana con i server, e si parla di un anno fa, un anno qualcosa fa Quando la prima volta, diciamo, i server privati erano usciti per pochissimi creatori, di chi aveva il codice creatore, ecco Quindi GG raga, stiamo ritornando in carreggiata, salva al mondo lo porteremo come sempre alla sera, con live E se arrivano nuove armi molto rare, presenti in game, vi faremo pure i video E niente raga, io direi di partire, le sfide in questione sono dell'assalto all'agenzia, in cosa consistono? Ovviamente ogni sfida darà un premio, tra cui ben 3, una da un deltaplano, una da una mimetica e un'altra da un piccone Sarà una roba molto, diciamo, particolare con questo evento, perché comunque prendere di mira l'agenzia è proprio questo l'obiettivo Quindi ragazzi, la prima sfida, che cos'è la prima sfida? La prima sfida è nuota oltre i portelloni dell'agenzia, quindi che dire, andiamo in missione, anzi in partita E vi faccio vedere come si completa Ebbene si raga, eccoci qui, come potete ben vedere, siamo all'agenzia, come diciamo da sfida Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, come potete ben vedere ci sono i portelloni I portelloni in questione, come avrete visto dalla copertina, sono questi Sono gli unici portelloni, perché altri non me ne vengono in mente E come funziona? Oltre passare nuotando Quindi ragazzi, nuotiamo Vedete questo è il primo portellone E già, vedete, comunque l'abbiamo superato E così la sfida dovrebbe comunque terminare E i portelloni, vi rifaccio vedere, per chi non ha capito Sono presenti comunque per tutta la mappa, vi faccio vedere Per tutta la mappa, per tutta, diciamo, la circonferenza dell'agenzia Uno si trova qui, uno si trova più in qua E così via raga, basta che seguite comunque, diciamo Le... basta che nuotate intorno Qua ne vedete? Ce n'è un altro Quindi stessa cosa, partendo dall'al di qua Superate il portone, ecco, vedete Superate il portone, solo ed esclusivamente nuotando Poi, continuando, se ne trova un altro Eccolo là, l'avete visto, l'avete intravisto nell'ombra Questo invece ci sta uccidendo, perfetto Ok, guardate, eccolo qui un altro Qui c'è un altro E poi ovviamente si continua, ovviamente per... Penso che lo sapevate già dove si trovavano In tutto questo ragazzi, la sfida comunque si completa così Solo ed esclusivamente, oltrepassandoli, nuotando Io spero di esservi stato comunque abbastanza utile nel completarlo Per chi non era ancora, diciamo, capace a farlo Ci vediamo con un nuovo video sempre inerente a queste sfide E ricordatevi, eccolo qua, c'è un altro E ricordatevi che porteremo video, sfide, leaks, news, video, live Tutto quello che volete nei prossimi giorni ragazzi Sono molto contento Il nostro canale ovviamente sta crescendo indifferentemente dalle situazioni E grazie mille del supporto Grazie veramente per i veri fan che ci seguono E niente, qui da reghe tutto, bella regà E grazie a tutti